Chang'ong U-Max 8K, un gigante da 98 pollici alla fantastica risoluzione di 8K. Iniziamo la carrellata delle novità parlando di un prodotto molto particolare. È un televisore 4K, quindi Ultra HD, dotato di dual chip, ovvero due processori, uno dedicato alle funzioni smart del televisore e l'altro dedicato alle funzioni normali. Questo permette di avere una fruibilità dei contenuti multimediali molto più semplice, immediata e veloce. Da non trascurare l'ergonomico telecomando a comando vocale, molto bello, semplice da utilizzare. Siamo in un'area d'elite, qui vengono prodotti e testati gli straordinari televisori URBi SHIT. Qui parte la produzione dei frigoriferi. Chang'ong produce frigoriferi da 45 a 550 litri. Siamo nell'area test dei frigoriferi. In quest'area ogni frigorifero viene collegato alla rete e testato. Siamo di fronte al flagship store di Mei Yang, oltre 5.000 metri quadrati di negozio dove è possibile provare ed acquistare tutti i prodotti della produzione Chang'ong e Chic. Benvenuti nella casa del futuro. In questa casa, in questo ambiente, ogni prodotto è Chang'ong ed è interconnesso con la rete e uno con gli altri. Siamo usciti adesso dalla stanza cinema, in cui c'è il videoproiettore corto raggio che la trasforma in un vero e proprio cinema in casa. Passiamo nel salotto dove il televisore è interconnesso alla rete e permette la fruizione di tutti i contenuti multimediali. Proseguiamo, passando con l'area condizionata, sempre nel salotto, in modo da avere un clima perfetto, per poi proseguire in cucina, dove troviamo anche qui un televisore, una cantinetta in grado di mantenere costante la temperatura dei vini, un frigorifero connesso ad internet e anche lui in modo da poter avere la scadenza di cibi all'interno sotto controllo, per passare la nuova stoviglia e ai fuochi, tutti rigorosamente Chang'ong. Siamo nel reparto ricerca e sviluppo di Chang'ong. In quest'area vengono sviluppati, progettati i nuovi televisori, i nuovi prodotti Chang'ong. Esattamente in questa postazione uno degli ingegneri Chang'ong sta effettuando i test sulla scheda madre del televisore, il cuore del televisore, soprattutto nella parte smart, quindi la connettività e quali sono i contenuti multimediali del televisore. Una panoramica del reparto assemblaggio pannelli, un ambiente che sembra lunare, tanti operatori con delle tute antistatiche in un ambiente privo di qualsiasi impurità. Dopo un lungo viaggio, Chang'ong Italia è giunta al cuore di Chang'ong Cina. Siamo nel quartier generale di Chang'ong Gruppo. Siamo nel quartier generale di Chang'ong Gruppo. International Hotel, a testimonianza del fatto che Chang'ong non è una multinazionale impegnata solamente nell'elettronica di consumo.